Musica Abbiamo voluto cominciare questa analisi di tutti gli edifici scolastici a tappeto, quindi indipendentemente dall'epoca di costruzione, dalla destinazione che hanno, se media, materna o elementare, perché dopo questi eventi sismici delle ultime settimane, degli ultimi mesi, oggettivamente una verifica puntuale, nello stesso momento, con lo stesso criterio, andava fatta. 35 edifici di competenza comunale messi sotto la lente di ingrandimento da parte dei tecnici del Comune di Arezzo per verificare cosa sia accaduto agli edifici scolastici a retini dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci. Tre le squadre al lavoro per questi controlli che saranno terminati nei prossimi giorni. Stiamo riempiendo le schede EDES per la classificazione del rischio sismico degli edifici che hanno subito un evento sismico e anche questi li hanno subiti come molta parte degli edifici a retini. Un edificio è ben costruito, anche se non è antisismico, ha molte più riserve di resistenza di quanto non si possa immaginare. Talvolta sono proprio gli edifici costruiti male, con materiali scadenti, poco legati, che indipendentemente dal criterio antisismico, ovviamente in quel caso non presente, che presentano rischi maggiori. Questi sono edifici fatti bene. Per capire, questa classificazione che voi state dando agli edifici era stata fatta nel passato o no? In questi termini credo di no, perché le schede EDES si riempiono dopo un evento sismico dove ci sono stati palesemente dei riscontri critici. A quel punto, per dare legibilità, si verifica una tappella. È quello che io ho fatto a Rieti a fine agosto. Ad Rezzo non sembrava che ce ne fosse bisogno, però siccome si continuano a subire queste scosse, a sentirle, a percepirle, è un'occhiata, secondo me, criticamente vadata, ma quello sul quale io molto batto è il fatto che si fa un'operazione di tipo uniforme, cioè si guardano tutte le scuole con lo stesso occhio e con lo stesso strumento di indicazione del danno. Per cui avremo una scala fatta bene, sulla quale potremo basare gli interventi eventualmente necessari. I soldi, se di interventi ci sarà bisogno? Se ne parlerà, se ne parlerà con la Regione, se ne parlerà con il Governo, probabilmente c'è Casa Italia che sta mettendo in piedi un pacchetto di aiuti ai territori che hanno subito e subiscono tuttora dei pesanti danneggiamenti per effetto del terremoto. Non è il caso di Arezzo, però comunque anche a livello preventivo noi dobbiamo essere in grado di poter dare una risposta corretta ai cittadini. E cominciamo dagli edifici pubblici, io dico più critici, che sono le scuole. Grazie. Grazie. Grazie.